Da un lato, gli studi e progetti su Nuova Pescara. Guai a chiamarla semplicemente Pescara, visto che nessuna legge ne ha cambiato il nome. Dall'altro, i tempi che vanno al ritmo del finchè la barca va, iniziati nel 2014 con un referendum. Oggi è stato presentato uno studio firmato dall'architetto Sonsini, alla presenza della politica abruzzese su iniziativa di Confindustria Chieti Pescara. Quale idea di Nuova Pescara potrebbe ridisegnare i 95 metri quadrati? È una città policentrica, quindi una città che attraverso un sistema di nuove attrezzature urbane esalta i tre territori che preesistono. Un altro è una città green, perché mette in campo i suoi elementi naturali, il mare, il fiume Pescara, il fiume Saline, la campagna del territorio esportore. Un altro paradigma è quello di una città che tende ad essere protagonista in questa macro-regione ionico-adriatica. Un altro paradigma è una città dall'agricoltura urbana, che è un concetto di agricoltura innovativo rispetto all'agricoltura tradizionale, perché lavora all'interno della circolarità del concetto agroalimentare e cerca di potenziare il discorso dell'agricoltura multifunzionale. Non è difficile immaginare un'area di accesso per vedere il fenicottero rosa sul fiume Saline, magari con chiosche e possibilità di fare un giro in canoa. O le nuove aree residenziali, ripensate nella logica della socialità e del nuovo modo di intendere i rapporti di vicinato, soprattutto in una città come Montesilvano. Un altro progetto potrebbe riguardare spoltore il suo imprinting medievale. Tutte ricchezze nascoste in gran parte al turismo e che comunque fanno parte di una visione più ampia. Tutti vogliono la nuova Pescara, ma sono passati già nove anni e già nuovamente è stata spostata la deadline dal 2024 al 2026. Certo capisco anche il problema della politica che dovrà fare un taglio anche ai 75 consiglieri su una popolazione di 194 mila abitanti. Do solamente un dato per capire di cosa stiamo parlando. Milano ha 48 consiglieri e sta su un bacino di 1.350.000 abitanti. E poi il ruolo che dovrà avere questa nuova Pescara in questo bacino del Mediterraneo, quindi riscoprendo un po' il vecchio progetto delle macro-regioni, un'impalcatura che ci dà e ci consentirà di poter affrontare temi oramai importantissimi che la complicazione geopolitica e geofinanziaria che vediamo oggi sotto gli occhi di tutti ci consentirà di poterla gestire al meglio cogliendo tutte le opportunità del caso.